Siamo con Abdel Gafor, il babbo di Ossama, il ragazzo che è tragicamente deceduto ieri durante una seduta d'allenamento. Che ragazzo era il suo figlio? Mio figlio era un ragazzo fantastico, un ragazzo che non ha mai dato noi a nessuno, che quando le è capitata questa disgrazia l'hanno pianto tutta la Toscana, che ora a casa mia dove abituo io a Levanella, dalla mattina alla sera è piena di gente che vengono da Firenze, da tutta la Toscana praticamente, la gente che mi conoscono, parenti, amici, amici di lui, anche i parenti sua italiani, i ragazzi con che ha giocato magari a Montevarchi, a Levani, i suoi compagni di scuola. Verso l'una e mezzo è venuto anche il preside dell'ITIS dove lui va a scuola, a San Giovanni, è venuto il preside e due professori di lui, sono veramente dispiaciuti, l'hanno anche pianto, sono venuti alcuni genitori di suoi compagni, amici, magari che lui dove si andava a giocare, a Levanella, a Levani. Comunque era un ragazzo spettacolare, veramente, un ragazzo educato, piacevole, non ha mai dato noi a nessuno. E purtroppo il suo destino è questo, i suoi giorni, quelli che le toccava nella vita, l'ha fatti. Ci siamo rimasti mali, malissimo, stiamo passando un periodo che ci ha mai pensato, una cosa che è arrivata all'improvviso, non ha mai sofferto di niente. Così, all'improvviso, è tornato da scuola, ha mangiato, ha riposato, poi ha preso la sua borsa, ha preparato la roba, è venuto a giocare. Noi si stavamo aspettando, preparando la cena, aspettavamo che tornava, invece ci hanno chiamato che era, diciamo, svenuto durante gli allenamenti. Poi ci hanno portato all'ospedale d'Arezzo, sono andato io là, purtroppo loro hanno fatto quello che hanno potuto fare e alla fine non ce l'ha fatta. Non vi hanno detto che cosa potrebbe essere stato ad uccidere? Hanno detto che è stato un arresto cardiaco, diciamo, un infarto, è una cosa che, diciamo, anche loro sono rimasti sorpresi, diciamo, una cosa che mai è capitata a un ragazzo di 16 anni d'età, magari è una cosa che può essere pericolosa, davvero un anziano di 80-90 anni, ma un ragazzo di 16 anni, diciamo, i dottori sono rimasti sorpresi, sono rimasti mali, con la bocca aperta, ma sono rimasti dispiaciuti. E tutto questo, alla fine ci ha voluto Dio, non ci possiamo fare nulla. Lui ha fatto la visita il 7 di ottobre all'Usl di Montevarchi, ha fatto una visita completa, diciamo, che hanno fatto il radiogramma, era tutto regolare, tutto a posto, quindi lui era idogno a fare questa attività. Non ha mai sofferto di niente, non ha mai sentito nulla. Magari l'ultima settimana ha avuto un po' di influenza normale, un po' di raffreddori, però ieri, diciamo, nel giorno quando è successo questa disgrazia, non sentiva nulla. E' venuto a giocare, volentieri. Suo figlio voleva diventare un calciatore professionista? E ci ha provato, perché lui da quando aveva 6 anni che gioca il calcio, ha giocato a Montevarchi parecchi anni, poi ha giocato a Levani, ha smesso di giocare nel periodo di Corona, poi l'anno scorso ha giocato con Levani. E quest'anno ci hanno chiamato qui a Laterina, ha detto provo un'altra avventura, è venuto qua, diciamo, volentieri, le piaceva, era soddisfatto, partecipava nell'allenamento, è stato sempre convocato nei partiti. E' il primo anno che sono stato sempre dietro a lui, lo portavo dovunque. Magari negli anni precedenti lo mandavo con la squadra, ma raramente che ci vado a guardarlo. Anche quest'anno, qualsiasi partita, lo portavo io. O ad Arezzo, a Piantisco, a Castelnovo di Sappione, in qualsiasi parte lo portavo, guardavo le partite. Alla fine mi dispiace. Mi dispiace. Un momento difficile per tutta la famiglia. Se i parenti qua, se gli amici, amici miei, l'hanno piante tutti. Tutti. I familiari, anche i genitori, diciamo i suoi nonni in Marocco, che stanno passando un incubo in questi giorni.